Anno 2200X, Gianluca aveva un dono, era l'unico ragazzo capace di pilotare i Modium X Un robot dalle armi potentissime E dalle forze eccezionale C'era un unico problema, la terra non era invasa da nessuno Che palle! Nessuna fazione avversa voleva conquistare il Giappone E fu così che il saggio professor Takayoshi gli dette il consiglio giusto E fu così che Gianluca trovò uno scopo nella vita A me senza maionese, grazie Segui le avventure di Gianluca in I Modium X È il lobby Su Italia 7 Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.